e lascio la parola a Marica Di Pierri dell'Associazione Asud grazie Emanuela immagino mi sentiate se non mi sentite fate dei gesti così che io lo sappia mi sembra di sì quindi benvenuti grazie per essere qui ad ascoltare questa discussione questa sera innanzitutto ringrazio Emanuela Sarzotti e poi l'intero comitato acqua pubblica Torino non solo per l'invito di stasera ma anche per aver creduto come Emanuela stessa diceva in questa iniziativa in questa avventura nella quale ci siamo lanciati ormai oltre due anni fa di cui vi racconteremo brevemente stasera ma lasciatemi dire anche per il tentativo che è sempre a mio avviso assai prezioso di legare tra loro le questioni di legare tra loro le istanze che riguardano diverse battaglie oggi appunto è una giornata in cui è particolarmente importante parlare di risposte idriche parlare di tutela dell'acqua ma è molto importante che poi in verità queste tematiche sia tra loro e quindi anche un po' il tentativo che abbiamo fatto costruendo quell'ampia coalizione che promuove la campagna giudizio universale quindi grazie anche per questo per questo sforzo di complessità tra le cose che è molto necessario anche per unire i pezzi che in Italia lavorano su diversi fronti ciò premesso vado un po' a raccontarvi di questa iniziativa chiaramente lo farò raccontandovi un po' le ragioni politiche che ci hanno portato a lanciare questa campagna e la causa legale legata anche perché sugli aspetti che a volte accenno nelle presentazioni quindi quelli scientifici e quelli legali abbiamo altri due invitati che potranno molto meglio di me precisare questi termini li ringrazio entrambi perché sono degli alleati importantissimi di questa battaglia sia Francesco Gonella che è un fisico dell'Università Caposcari di Venezia che ci dà una mano su quel campo così complicato che è la comprensione della scienza del clima e poi Raffaele Cesari che è uno degli avvocati dei membri del team legale che ci sta appunto accompagnando in questa avventura ma come nasce Giudizio Universale? Intanto questo nome come voi stessi avete detto attira sempre una certa curiosità in Italia parlare di Giudizio Universale vuol dire parlare di arte vuol dire parlare diciamo di molte di molte cose diverse tra loro ma a noi è sembrato che questa etichetta così lontana da un mondo di movimento potesse rappresentare due elementi importanti il tema della giustizia che è fortemente legato da un punto di vista politico filosofico ai cambiamenti climatici e su questo vorrei dire qualcosa il tema del giudizio visto che di fondo quella che abbiamo promosso è un'azione regale è la sua universale cioè la battaglia contro i cambiamenti climatici che si può giocare con diversi strumenti a livello locale a livello nazionale è di fatto una battaglia che riguarda tutti e tutte a livello globale quindi è da questa riflessione che è nata l'idea di appunto chiamare così la campagna giudizio universale e l'associazione che rappresento che come ricordava Emanuela è la promotrice la prima promotrice della campagna la prima firmataria ma è una delle anime che popolamo quest'ampia coalizione lavora da molti anni nel campo della giustizia ambientale quindi fa parte così come anche gli attivisti del comitato che ci ospita stasera fa parte di quel ramo se così vogliamo definirlo dell'ecologismo che lega le questioni sociali alle questioni ambientali e quindi anche i cambiamenti climatici in quest'ottica non possono che essere letti come una questione che ha profondissime ripercussioni in termini di diritti umani in termini di giustizia e quindi tutto quel campo rivendicativo ormai ne siamo piuttosto consapevoli abituati a vedere questi cartelli anche di giovanissimi che rivendicano giustizia climatica ha proprio al centro questa riflessione rispetto al portato in termini di giustizia in termini di equità in termini di diritti che i cambiamenti climatici significano e soprattutto che gli impatti dei cambiamenti climatici significano noi abbiamo negli anni le diverse conferenze delle parti quest'anno peraltro forse lo ricorderanno anche gli interventi che seguono ma compie trent'anni la convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici trent'anni nel corso dei quali il tema climatico è stato spesso al centro del dibattito politico ma non al centro dell'azione quindi questa è un po' la riflessione che non soltanto noi attivisti ma sempre di più gli scienziati con sempre maggiore forza hanno portato al centro dell'attenzione ovvero l'insufficienza al netto della presa di parola della retorica che spesso attorni a queste tematiche l'insufficienza delle politiche messe in campo quindi noi siamo ci siamo a lungo interrogati così come moltissimi altri movimenti simili associazioni in giro per il mondo di quali strumenti si potessero utilizzare per provare a spingere gli enti preposti in particolare in questo caso gli stati quindi le istituzioni pubbliche a fare la loro parte lo abbiamo fatto mobilitandoci lo abbiamo fatto scendendo in piazza lo abbiamo fatto partecipando alle conferenze delle Nazioni Unite come osservatori lo abbiamo fatto organizzando dei summit dei controvertici in cui discutevamo tra noi di come costruire delle alternative dal basso lo abbiamo fatto postillando spesso strategie nazionali a tutto il lavoro che ogni volta si fa commentando le strategie energetiche commentando i piani integrati energia-clima osservazioni che vengono sempre disattese e quindi abbiamo guardato con molto interesse alla nascita allo sviluppo di questo campo nuovo che era proprio il campo delle climate litigation ovvero delle azioni legali climatiche che si vanno promuovendo in giro per il mondo e poi abbiamo guardato con stupore anche alle vittorie che effettivamente attraverso questo strumento si andavano registrando quindi c'è stato un interesse un avvicinamento anche con molte realtà che in Europa stavano promuovendo iniziative simili fino a pensare di promuovere un'azione legale contro lo Stato anche nel nostro paese quando parliamo di climate litigation lo dico soprattutto per chi ci sta ascoltando magari non è così avvezzo anche perché la stampa italiana non dedica molto spazio a questo genere di iniziative quando parliamo di climate litigation parliamo proprio di cause legali vere e proprie negli ultimi anni è un tipo un fenomeno che si è diffuso moltissimo pensate che le Nazioni Unite in particolare l'Agenzia per l'ambiente delle Nazioni Unite ha pubblicato negli ultimi anni due dossier che raccontano proprio questo straordinario nuovo fenomeno delle azioni legali in ambito climatico il primo lo ha pubblicato nel 2017 e censiva poco più di 800 cause in tutto il mondo il secondo lo ha pubblicato poco più di due anni dopo nel 2020 e ne censiva a 1550 quindi sono praticamente raddoppiate in poco più di due anni nel 2020 l'ultimo censimento realizzato ne contava già quasi poco meno di 1900 quindi quasi 2000 stiamo parlando di un fenomeno che sta diciamo riscrivendo il diritto climatico in molti paesi del mondo le climate litigation nascono negli Stati Uniti dove comunque è ancora oggi in svolgimento la maggior parte dei contenziosi legali perché gli Stati Uniti come sapete hanno una grande storia di class action ma si sviluppano poi effettivamente in altri paesi si sviluppano moltissimo in Canada in Australia in Europa e le tendenze attuali ci raccontano che sempre di più anche nei sud del mondo si stanno giocando delle battaglie legali molto molto importanti che tra l'altro e questo è molto interessante vanno molto di più a guardare la sostanza ovvero si soffermano meno su tutte le questioni pregiudiziali le questioni di legittimità e vanno invece a ragionare lo fanno i giudici ad esempio alcuni casi molto importanti in India in Pakistan vanno a concentrarsi di più proprio sulla necessità di tutelare i diritti umani quindi decidiamo più di due anni fa subito prima della pandemia anzi era giugno del 2019 di lanciare una campagna che appunto ha preso poi il nome di giudizio universale costruendo un'alleanza quanto il più possibile ampia proprio per arrivare poi al deposito dell'atto di citazione e quindi avviare questa causa anche in Italia abbiamo incontrato sulla nostra sul nostro cammino un team legale eccezionale di cui Raffaele Cesari fa parte c'è Luca Saltalamacchia c'è il professor Michele Carducci che è uno dei massimi esperti di diritto non solo a livello nazionale ci sono voluti due anni per arrivare al deposito vero e proprio della causa di mezzo c'è stata una pandemia la difficoltà di raccogliere uno a uno i mandati alcuni di voi sono anche ricorrenti individuali quindi sapete che avete tutti dovuto firmare di persona e nella fase pandemica è stato particolarmente complicato ma poi come ci racconterà probabilmente meglio Raffaele scrivere depositare un un di questo tipo è anche una sfida giuridica perché vuol dire innovare il diritto vuol dire immaginare anche l'utilizzo di istituti in maniera in maniera nuova quindi l'altro elemento che vorrei sottolineare è che ci mancavano dei dati scientifici questo lo sa bene Francesco l'Italia non aveva mai calcolato il suo carbon budget quindi ci sono voluti davvero dei mesi due anni di lavoro per arrivare poi a depositare l'azione legale vera e propria finalmente ci siamo riusciti nel giugno scorso esattamente a due anni anche lì abbiamo scelto una data come quella di oggi una data simbolica la giornata mondiale dell'ambiente il 5 giugno per lanciare questa azione questa azione legale e quindi siamo finalmente entrati nel vivo io vorrei darvi qualche numero rispetto alla nostra alla nostra iniziativa intanto la campagna ha oltre 100 realtà che hanno aderito ci sono grandi movimenti come Friday for Future come i movimenti studenteschi ci sono realtà organizzate come la nostra come Sud come Terra quindi strutture diciamo associative ecologiste ci sono moltissimi comitati territoriali che fanno un lavoro incredibile nei territori italiani ci sono delle società scientifiche i medici per l'ambiente la società meteorologica italiana di Luca Mercalli quindi un'alleanza tra realtà anche diverse ma che comunque hanno in comune una visione una missione quella di agire per avere un'incidenza anche in ambito climatico dal punto di vista formale l'azione ha poco più di 200 soggetti sono 203 firmatari quindi anche questo è stato impegnativo ma molto importante all'interno di questi soggetti ci sono delle associazioni ci sono dei minori abbiamo 17 minori rappresentati in giudizio dai genitori questo elemento era per voler fortemente sottolineare il tema della giustizia intergenerazionale cioè quanto in realtà le giovani generazioni rischiano purtroppo probabilmente pagheranno un prezzo più alto e da allora abbiamo attraversato la prima udienza abbiamo avuto una risposta da parte dello Stato abbastanza claudicante ma su questo mi piacerebbe forse Raffaele raccontarvi bene anche quali sono le impressioni del team legale e stiamo in ballo quindi ci stiamo giocando un'ulteriore carta dopo moltissime vittorie importanti vorrei dire questo vorrei dire che le cause legali non sono una campagna e basta sono degli strumenti giuridici che possono determinare dei reali cambiamenti nelle politiche ed è questo quello che noi ci auguriamo l'ultima cosa che poi magari riprendiamo in un secondo momento è che il periodo attuale è particolarmente drammatico in ambito energetico e in ambito climatico sappiamo tutti che già dall'anno scorso con il mantra del caro bollette adesso ancora di più con il conflitto in Ucraina con la dipendenza dalla Russia stiamo assistendo a politiche che stanno completamente facendo passare in terzo quarto piano la crisi climatica e quindi ci si sta preparando alla riapertura delle centrali a carbone ci si sta preparando a un modello energetico tutto puntato sul gas al rilancio della frontiera estrattiva quindi probabilmente in questa fase la nostra causa ha ancora più senso perché bisogna rimettere al centro anche le argomentazioni climatiche e non si può soltanto utilizzare appunto una metrica econometrica per valutazioni che hanno poi a che vedere diciamo con delle profonde conseguenze anche in ambito ecologico e climatico io mi fermo qui ci sarebbe tantissimo da dire ma sono stata la prima a dire ad Emanuela facciamola breve invece mi sono allungata tantissimo come al solito ma insomma su molti di questi argomenti spero che ci sarà poi la possibilità di un confronto con tutti e tutte quanti ci stanno ascoltando grazie grazie Marika sei stata nel quarto d'ora perfetta grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti